Grazie. Buonasera, buonasera in diretta dal Palace Radimigni, abbiamo un altro sassarese, mancando Marco Spisso che oggi si è preso la responsabilità di partire in quintetto, Max, e di fare una partita comunque di grande energia insieme ai tuoi compagni dopo 15 giorni di stop, non era assolutamente facile, avete tenuto duro fino alla fine, avete portato a casa una gran vittoria. Sì, non era facile perché stare due settimane comunque fermi è difficile, però siamo stati bravi, eravamo senza playmaker, senza Marco, senza Toni e questo ci ha creato un po' di problemi, Stefano è stato bravissimo, GB lo stesso e siamo riusciti nel secondo quarto a prendere quel vantaggio e poi a gestirla fino alla fine, quindi è una grandissima vittoria. Ti mancava un po' questa sensazione del campo, della Serie A, del quintetto, di prendere tiri comunque importanti e sei stato bravo perché hai continuato a prenderti i tiri che dovevi anche pur sbagliando all'inizio? Assolutamente, l'ultima partita l'ho giocata esattamente più o meno un anno fa, quindi mi mancava il campo, mi mancava giocare, c'era bisogno e ho cercato di giocare la mia pallacanestra, quello che so fare, so tirare e se sono libero prende tiro, quindi senza paura. E' andata bene oggi, adesso testa martedì. Ti chiedo un'ultima cosa, purtroppo visto lo stop lungo e pochi allenamenti il calendario sicuramente non vi aiuta perché giocare ogni due giorni questo tipo di partite con questo stress e con questo dispegno di energia è assolutamente pericoloso, tra virgolette, atleticamente e non facile. Ma non facile assolutamente, anche perché giochiamo contro martedì giocheremo contro una scuola molto fisica che all'andata ci ha messo in difficoltà, pressa tutto il campo e quindi sarà una partita tosta, però ripeto siamo stati a casa troppo tempo e quindi meno male siamo tornati a giocare. Ringraziamo Massimo Cesso, lo facciamo uscire dalla parte sinistra, ovviamente stiamo aspettando coach Paolo Galbiati che ha finito di parlare con la sua squadra e poi ovviamente coach Gianmarco Pozzecco, siamo ovviamente in diretta qui dal Palasserra di Mini per cercare ovviamente anche i tifosi di Cremona e ai giornalisti che seguissero di avere il punto di vista anche degli avversari. Una partita che come detto la Dinamo ha vinto 95 a 84 dimostrando di fare una vera e propria impresa soprattutto viste le difficoltà di Spissu, senza Spissu, senza Catic, è vero che a Cremona mancava Quonu, è vero che Cremona ha avuto problemi fisici con Poeta che non aveva tante rotazioni, però la Dinamo dopo due settimane con Benjus che recuperava anche lui dall'infortunio, con Up che recuperava dal mal di schiena, sei uomini in doppia cifra, sono stati veramente molto molto bravi, Kruglin determinante MVP dell'ultimo quarto con tre bombe, con la difesa su Fabio Mian e con tutto quello che è stato poi il contorno dei sei uomini in doppia cifra con le giocate di Bilan, con la tripla doppia sfiorata da Barnell che ha chiuso con 13 punti, 12 rimbalzi, 8 assist per 25 di valutazione, è stato veramente eccezionale. Dunque Dinamo che ha conquistato due punti fondamentali almeno in campionato per mantenere le top four, ma soprattutto per poi partire con una striscia di match nella prossima settimana, cominciare da Saragozza, veramente durissima e quindi staremo a vedere quello che succederà soprattutto in Champions, dove la Dinamo dovrà fare ovviamente dei miracoli per giocare ogni due giorni, adesso aspettiamo il coach di Cremona e magari poi ovviamente Gianmarco Pozzecco, 30 secondi di pubblicità e torniamo subito da voi. Hey, nobody assist like us, choosing the best insurance products and processes. And you know why? Because we are Double S. Let's go! One, two, three! Double S! Double S Broker, redefining insurance. Bello! Total l'erichimento. other One secondi di pubblicità, bre 주occe sono due straddita e f direkt coperta alti prestiti personali del Banco di Sardegna TAN 569 TAEG 653 SMILE 100% Rieccoci in diretta dal Pala Serra di Migni ovviamente siamo in attesa di coach Paolo Galbiati e poi di coach Gianmarco Pozzecco abbiamo ascoltato le parole di Massimo Chessa che è partito nel quintetto ovviamente viste l'assenza di Spissu e Katic 6 punti con 2 su 5 da 3 punti per il giocatore di Sasseri che come ha giustamente detto con un sorriso non giocava una partita vera in pratica da un anno una sensazione particolare un impatto importante anche se la Dinamo poi è stata brava a riuscire a contenere il tentativo di rimonta di Cremona che ha preso in pratica tutto lo svantaggio quasi con il 30-13 del secondo quarto la Dinamo ha chiuso 56 a 42 i primi 20 minuti Cremona è rientrata è arrivata a 82-77 è arrivata a meno 5 per poi cedere alle triple di Cruisin che hanno deciso il match Cremona però con la Dinamo che nel secondo e nel terzo periodo e nel primo periodo ha perso tantissimi palloni che hanno permesso a Cremona poi di rientrare ci sta raggiungendo coach Paolo Galbiati innanzitutto lo ringraziamo ovviamente lo facciamo accomodare nella postazione buonasera coach volevamo innanzitutto sapere un tuo commento della partita faccio i complimenti a Sassari prima di tutto perché in una situazione per loro molto complessa hanno tirato fuori un'ottima partita sono molto più fisici di noi lo sapevamo il primo tempo il secondo quarto ha spaccato la partita loro hanno dominato il rimbalzo d'attacco e onestamente hanno tirato molto molto bene dall'arco c'è stata una la nostra classica onestamente adesso sta diventando un grande classico di andare sotto di parecchio e rientrare siamo arrivati a meno 5 penso anche palle in mano poi abbiamo preso una bomba davanti alla mia panchina di Kruslin mi sembra che ci ha tagliato le gambe e niente quindi il commento è presto detto abbiamo vinto tre quarti su quattro ma il terzo quarto ci hanno spazzato quindi il secondo quarto ci hanno spazzato e quindi torniamo a casa con un'altra lezione non c'è più tanto tempo per imparare le lezioni è chiaro che a noi ci manca allenarci ci manca non stiamo facendo 5 contro 5 non è una scusa non deve esserlo nelle ultime due settimane abbiamo forse fatto 60 campi totali di 5 contro 5 quindi certo l'abbiamo detto poi abbiamo detto dell'assenza di cuono dei problemi fisici di Peppe che è stato recuperato in extremis ti chiedo avevate avuto un buon impatto con Lee dentro l'area che poi ha fatto due falli che era chiave per fermare i lunghi della Dinamo e poi nel quintetto vostro piccolo loro completamente pesante con Barnell da due lì forse avete pagato ancora dentro l'area ma eravate stati bravi proprio a sfruttare questo tipo di giocato sì lì ha fatto una grandissima partita onestamente ha più 10 di plus minus in 22 minuti con lui in campo chiaro che una partita come questa qua con Sassari che ha questa fisicità questi corpi questa veramente questa volume dentro l'area avevamo bisogno di lui sicuramente i due falli ci hanno un po' i suoi due falli presto ci hanno ci hanno frenato ci hanno tolto un giocatore che per me è importante e poi mi ha chiesto un cambio a 4 minuti alla fine che stava morendo e poi Sassari è scappata e così invece ti dico quando loro hanno fatto il quintettone noi eravamo veramente sembravamo i figlioli piccoli però abbiamo fatto delle cose interessanti c'è stata c'è stata c'è stata volontà la mia squadra mi mi fa arrabbiare perché oggi sono arrabbiato perché onestamente dobbiamo fare tutta altra partita però hanno qualcosa dentro non muoiono stanno lì poi facciamo degli errori li paghiamo cari è la storia della nostra stagione lo sapevamo perché sai quando costruisce una squadra comunque come abbiamo fatto noi così corta se poi iniziamo a perdere dei pezzi per virus infortuni problemi vari diventiamo cortissimi magari dopo un po' ci si annebbe al cervello poi ci sono gli avversari perché oggi Sassari ha fatto alcuni giocatori di Sassari hanno fatto una partita eccellente Rosli su tutti ma Stefano Gentile è stato molto bravo secondo me i lunghi per noi sono chiaramente un problema sono sempre i Sassari lunghi all'ennesima potenza quindi paghiamo questo l'ultima cosa al volo ti porti dietro lo spirito però perché tu hai perso tre partite per un tap-in hai dominato con Venezia e Milano hai portato a casa zero punti avresti prodotto meritare di essere magari a 22 a 24 non hai preso quei punti però Cremona ha dimostrato di avere un'identità di avere energia di non mollare mai e questo per una squadra che deve salvarsi Paolo l'hai detto anche settimana è una cosa che diventa fondamentale anche se magari sei un po' arrabbiato stasera no dopo un po' tutte queste pacche sulle spalle ti dico che danno fastidio fanno piacere perché alla fine abbiamo un senso secondo me quando ci guardo riguardo la mia squadra giocare fanno delle cose con un senso abbiamo delle mancanze quindi tutte queste pacche questi punti lasciati in giro un po' di frustrazione ce la danno perché oggi potevamo già essere salvi che è il nostro scudetto e invece ancora tutto da costruire con tutte le incognite del caso perché poi chissà se David si si negativizza come auguro a a Spisso e a Catici di sistemarsi prima possibile perché perché è brutto quando il giocatore è a casa con un virus e non può giocare però ci manca qualcosa sicuro lo spirito non manca mai ti ripeto mi piacerebbe mi piacerebbe allenarci per davvero che la mia squadra si potesse allenare per davvero perché poi lo spirito ce l'hanno sono dei bravi bravi ragazzi secondo me qualcuno è anche un bel giocatore che si ritaglierà una buona divertente carriera europea però adesso noi abbiamo un obiettivo che è quello di fare il nostro scudetto che è salvarci e sarà una bella lotta grazie mille a Paolo Galbiati li facciamo un grosso in bocca al lupo lo facciamo uscire da quella parte che così siamo a posto e dunque siamo solo in attesa di Gianmarco Pozzecco per avere dopo le parole di Massimo Chessa appunto anche Gianmarco Pozzecco forse ci raggiunge anche un nostro caro amico che ha sfiorato anche qualche anno fa di venire a giocare alla Dinamo ovvero Peppe Poeta che si è fermato a parlare con il suo coach con Paolo Galbiati soprattutto penso anche sulle sue condizioni fisiche su quello che è stata la partita Peppe Poeta è sicuramente una guida per quanto riguarda per quanto riguarda Cremona e come diceva Paolo Galbiati il 30-13 del secondo quarto è stato decisivo Cremona era partita bene ha pagato i falli di lì ha pagato anche lei la mancanza di allenamenti e soprattutto ha pagato i 95 punti presi che sono tanti contro una squadra che arrivava appunto da due settimane di inattività e dunque la Dinamo è riuscita a portare a casa una vittoria 95-84 davvero importante quindi 9-5 a 8-4 e adesso siamo per siamo per avere Gianmarco Pozzecco ai nostri microfoni sorridente finalmente lo vediamo sorridente e gli chiederemo subito il commento della partita appazientate ancora qualche secondo a tutti i nostri amici che sono collegati ai tifosi della Dinamo ovviamente contenti per la vittoria salutiamo ovviamente anche coach Casalone poeta continua nel suo dialogo con coach Galbiati dicevamo di coach Galbiati che ha fatto innanzitutto i complimenti alla Dinamo alla partita che ha fatto la Dinamo non era un po' arrabbiato per essere ancora una volta andato sotto di tanti punti e per essere arrivato a meno 5 con la palla in mano e non essere riuscito definitivamente a rientrare in partita però possiamo far venire se è pronto al volo un minuto Peppe Poeta e poi abbiamo Gianmarco Pozzecco però diamo precedenza agli ospiti lo facciamo girare da questa parte Peppe sicuramente arrabbiato perché vorrebbe vincere anche quando gioca contro di Pozz e dovrà perdere Peppe grazie di essere venuto allora un bel impatto un bel approccio di Cremona con lì molto bravo a chiudere l'area però siete andati ancora sotto quasi di 20 punti per arrivare a meno 5 palle in mano una cosa che vi succede un po' spesso i ragazzi sono stati fantastici devo veramente straordinare sono i miei figli veramente fantastici no a parte gli scherzi a parte gli scherzi questa squadra oggi potremmo giocare 27 ore non mi ci vanno la squadra sta facendo un lavoro incredibile siamo in 7 da due mesi ci alleniamo in 7 abbiamo sofferto la difficoltà di Sassari sono andati tanto in post basso col 3 col 4 col 5 hanno fatto la zona hanno giocato sui nostri limiti noi obiettivamente quando siamo così corti dobbiamo fare dei quintetti che non sono efficaci quindi subiamo però nulla da dire veramente alla squadra che siamo veramente adesso siamo in 7 da ormai due mesi prima perché ci mancava TJ Williams adesso ci manca Cornot quindi siamo in 7 da due mesi stiamo andando a raschiare tutte le energie possibili e speriamo di salvarci perché penso che ce lo meritiamo quindi adesso focus alla partita di sabato che è veramente molto importante complimenti alla Dynamo perché ha un'identità incredibile giocano veramente bene sono spaziati bene hanno delle certezze importanti che nonostante i tanti giorni di inattività e di non gioco sono venute fuori vi chiedo un'ultima cosa avete un po' il tarlo di aver perso tre partite con il tap-in avete dominato con Venezia e Milano poi avete perso avete perso sei partite che potevano essere la vostra salvezza il vostro scudetto adesso siete dentro nel gruppone che lì veramente bisogna combattere però avete quell'identità che avete visto anche che si è vista anche oggi di cui non mollate veramente mai siete un gruppo che ha un senso come diceva il coach in questo campionato no ripeto a parte gli scherzi questa squadra è andata oltre ogni più rosi aspettativa siamo stati costruiti in un batter d'occhio abbiamo fatto ce la siamo giocata con tutti abbiamo perso l'ultimo tiro tante partite come giustamente hai detto tu che oggi un po' pesano obiettivamente pesano perché avere quattro punti in più in classifica penso che ci dava un'ulteriore tranquillità oltre che un premio a quanto prodotto ecco però testa alta ci abbiamo tre squadre dietro avremmo firmato per avere tre squadre dietro oggi all'inizio del campionato ci abbiamo ancora tutto il destino alle nostre mani serenamente non erano questi i punti da andarci a prendere ci abbiamo provato come sempre come tutte le volte non è bastato grazie Peppe Poeta lo facciamo grazie mille lo facciamo uscire e abbiamo il coach Gianmarco Pozzecco che ci raggiunge qui dopo aver salutato ovviamente dopo la presa in giro ovviamente siete tutti fantastici sui ragazzi quando Gianmarco inizia le sue conferenze stampa però adesso lo sentiremo ai nostri microfoni commentare una partita che sicuramente una vittoria che sicuramente non arrivava non era così scontata anzi era più con più di un punto interrogativo senza spi senza cattici è vero che Cremona l'abbiamo sentito sia da Galbiati che da Poeta ha avuto tanti problemi però la Dinamo oggi ha giocato una partita solida una partita che al di là delle palle perse nel primo e a cavallo tra il terzo e quarto sono costate care perché sono costate il rientro di Cremona la Dinamo in tutti gli altri fondamentali ha tirato bene da tre ha preso tanti rimbalzi offensivi ha servito tanti assist ha avuto sei uomini in doppia cifra insomma con Kruslin che ha eliminato Fabio Mian voi guardate poi le cifre e dite Fabio Mian ha finito con 23 punti ma ha finito 23 punti nell'ultimo quarto perché Kruslin faccia a faccia e lo chiedo a Gianmarco Pozzecco oggi i ragazzi sono stati straordinari te lo dico io per quello che hanno passato volevo partire solo da Philipp Kruslin per una volta perché non sono le bombe per me oltre solo le bombe che hanno deciso la partita ma Fabio Mian era 23 punti l'ultimo quarto e gli ultimi sei minuti di difesa faccia a faccia di Philipp Kruslin su Fabio Mian secondo me sono stati determinanti sì è vero parlo poco spesso di Philipp ma oggi è stato è stato veramente è stato veramente bravo chiaramente ha messo i tiri per chiudere il match questa è la verità ma non ha fatto solo quello e sono contento parlavo con lui in settimana voglio che voglio che i miei ragazzi al di là delle difficoltà che chiaramente abbiamo vissuto voglio che che ritrovino velocemente la come dire la la consapevolezza di 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 stare bene di essere in forma di essere di venire da un'annata entusiasmante quindi di finire l'anno in un determinato modo e Philipp mi auguro per lui che che finisca per come l'ha iniziato chiaramente venivamo da 14 giorni travagliati e quindi era normale che ero preoccupato ero preoccupato ero molto nervoso e alla fine mi sono scusato con i miei giocatori perché perché ero eccessivamente nervoso ma anche anch'io subisco la lontananza dal perché anche se non dovrebbe essere così ma sono estremamente contento abbiamo abbiamo giocato una partita adesso faccio contenti un po' tutti e parlo di paracanestro abbiamo deciso di giocare una partita usufruendo delle debolezze degli avversari questa è una squadra che sta giocando secondo me al di sopra di quella che poi il budget ha permesso di mettere in campo come roster e quindi bisogna fare i complimenti a Paolo in primis perché anche oggi è una squadra che ha giocato con grande determinazione fino alla fine però è normale che è una squadra che ha un budget risicato e quindi noi abbiamo giocato un po' sulle debolezze dei nostri avversari siamo stati molto bravi a giocare sul pick and roll capendo e vedendo chi marcavamo e quindi adeguandoci di conseguenza chiaramente hanno giocatori diversi con caratteristiche clamorosamente diverse siamo stati molto bravi a non far tirare praticamente quasi mai i homes siamo stati molto bravi a passare sotto contro determinati giocatori loro siamo andati addirittura a marcare il playmaker con Ethan ed sono cose che sembrano come dire questa è una cosa che io odio in assoluto sembrano che sia merito magari dello staff che prende una decisione del genere ma assolutamente no perché sono il merito dei giocatori che poi alla fine hanno la lucidità e l'abilità di capire che in quel momento devono fare una cosa piuttosto che un'altra e contemporaneamente metterci dell'aggressività io parto sempre da questo presupposto tu puoi fare due scelte all'inizio dell'anno hai due opzioni la prima è fare una squadra che ogni domenica si adegua agli avversari o fare una squadra che sostanzialmente predilige il fatto di imporre il proprio gioco e quindi si adegua raramente o si adegua come dire solo in casi estremi io ho scelto scelgo quasi sempre la prima opzione l'opzione dell'adeguarsi raramente o in occasioni come dire che ti danno veramente un vantaggio perché prediligo il fatto che i miei giocatori giochino con grande aggressività e facciano sempre più o meno la stessa cosa soprattutto in difesa oggi abbiamo fatto una scelta diversa che è appunto quella di adeguarsi alla squadra avversaria perché venivamo anche da da una situazione rocambolesca e quindi devo fare i complimenti ai miei giocatori perché sono stati veramente molto lucidi giocando tanto tutti e poi un'altra cosa l'unica cosa negativa di questa sera anzi prima dico sottolineo un'altra cosa estremamente che mi rende estremamente felice Massimo Kesse si aggiunge alla lista dei miei figli perché Massimo è arrivato da poco e non lo conoscevo lo conoscevo chiaramente perché è stato ed è un giocatore di alto livello quindi insomma l'ho incrociato spesso ma non ho mai non avevo avuto il piacere di condividere del tempo insieme a lui ed è una persona veramente straordinaria avevo condiviso più tempo da quando sono a Sassari con il fratello Luca che è una persona straordinaria anche lui perché l'appartamento dove vivo lui lavora al Banco di Sardegna e è il mio angelo e sono contento per Massimo sono contento per Massimo e quando giochi poco una partita come questa ti ti rimette in vita se lo merita e quindi è automatico che non possa che essere dispiaciuto per Ganda è una persona incredibile però oggi avevamo fuori tutti gli esterni e non i lunghi e quindi non sono riuscito a farlo giocare ultimissima cosa ti lascio andare tante cose positive i rimbalzi offensivi l'aver giocato tirato bene l'aver fatto giocato con Barnel da due con quattro giocatori dentro l'area aver dimostrato con sei uomini in doppia cifra tirando bene da tre riuscendo a segnare 95 mila punti l'unica cosa che ogni tanto il peso del possesso e ti arrabbi anche tu viene un po' preso primo quarto secondo quarto strepitoso nel primo nel terzo quarto avete perso il vostro vantaggio con delle palle perse un pochettino sanguinose e il peso che date un po' al possesso ogni tanto lo pagate abbiamo tempo? no Luigi hai tempo? ok Marco? ok guarda nella vita nella vita non si può avere tutto nella vita non si può avere tutto allora se tu dai confidenza ai giocatori devi accettare delle palle perse se tu vuoi che i giocatori abbiano confidenza non puoi avere le rotazioni lunghissime no perché Luigi vuole che vogliono andare a casa c'è arrabbiato Barnel dopo 38 minuti che era in campo con quasi una tripla doppia perché l'hai riproverato per una palla persa però una tripla ma infatti è vero Paolo infatti un anatore ogni tanto deve uscire dal campo e dire e dire ero troppo nervoso o dire ho fatto un errore tattico ho fatto un errore tecnico io oggi ero troppo nervoso l'ho detto avevo pensato di stare seduto sempre ma avevo percepito che i giocatori avessero bisogno un po' della mia presenza in piedi come al solito ho Casalun e Jerry che possono tranquillamente stare al mio posto l'abbiamo fatto miliardi di volte lo faremo da qui in avanti spessissimo e continueremo a farlo appunto e sai secondo me secondo me l'allenare è un è una sorta di è un contenitore dove tu all'interno ci metti le cose e metterne troppo se ne metti troppe non ci stanno non ci stanno e e sono veramente contento di quello che stiamo facendo l'unica cosa che che mi dispiace che non ci siano i tifosi e un ultimo appello che lancio è che è che dobbiamo dobbiamo stare non perché ne abbia bisogno io ma dobbiamo stare vicini alla Dinamo sempre tutti indistintamente tu Paolo lo fai con grande enfasi e grande trasporto emotivo e questo ci aiuta molto e tutti quelli che orbitano in questo mondo tutti quelli che stanno intorno alla Dinamo e vogliono bene la Dinamo devono quotidianamente aiutarci aiutare soprattutto i ragazzi ad avere l'atmosfera giusta per poter giocare a pala canestro grazie al Poz e proprio nel discorso pre partita ha detto ai ragazzi divertitevi perché già tornare a giocare a basket è una grossa gioia e dovete farlo quindi grazie al Poz e noi possiamo chiudere qui dal Palazzo Radimini ringraziamo ovviamente tutti quelli che hanno collaborato alla messa in onda di questa diretta a Federica Roberto a tutto lo staff ovviamente comunicazione marketing che ci aiutano tutte le volte finale 95 84 ovviamente troverete tutto on demand le interviste a Poeta a Chessa a coach Galbiati a coach Gianmarco Pozzecco sul canale YouTube e poi su tutti i nostri social è davvero tutto qui dal Po alla Sera di Migni buona serata a tutti e arrivederci buonanotte